...interessante, mentre qui un futuro ginnasta. Dicevo, altro elemento particolarmente interessante per la nazionale di Maurizio Allievi, ricordo che il direttore tecnico è Fulvio Vailati. In questo momento gli allenamenti della femminile sono coordinati da Paolo Pedrotti, ma resta sempre come punto di riferimento vivo, interessante, quello di Enrico Casella, della Brixia Brescia, e andiamo a vedere proprio Paolo Principi impegnato al corpo libero. Bene, sta sfruttando molto bene la sua caratteristica principale, quella degli avvitamenti, è un ragazzo alto, longilineo, molto potente anche sulle spinte di gambe, quindi sfrutta i salti tesi con gli avvitamenti. La serie di mulinelli, il Fedorchenko, ecco ormai quasi tutti, vanno in verticale a braccia di varicate per sfruttare questo elemento, per avere l'abbono di tre decimi come difficoltà C. Uno e mezzo salto avanti e rotolamento, parte finale dalla rondata. Il triplo avvitamento, e chiude anche molto bene con una dischetta stabilità nell'arrivo. Eccellente la prova di Paolo Principi, 14.65 al corpo libero. E adesso andiamo a vedere una ginnasta che ha avuto un periodo di infortuni.